laser ghost amici ultima puntata buon halloween 31 andiamo a finirlo no non penso proprio perché non ho avuto tempo di ma facciamo una partita sfruttando tutti i continui che cazzo fatto ho già sprecato una bomba e ho benissimo si comincia benissimo io i pipistrelli porca troia di quanto non entra qua per amor del cielo che c'è la stanza bonus prendi bombe s bomba che ho sprecato l'importante è non sprecare tutte le bombe allora è difficile il sistema di comando con il joystick ho provato con la pistola e ragazzi è tutto un altro è tutto un altro giocare è proprio studiato per la pistola questo quindi anche se non finisco pazienza sfrutto il continuo e basta c'è una partita unica ancora dall'inizio perché il gioco è bello poi finirlo a un altro paio di maniche via 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 però chi se ne frega facciamo per divertirci andiamo a vedere arrivare più in là possibile poi ho spento tutte le luci dammi le bombe che qua io quei punti qua non riesco a capire come cazzo fare evitare di fagli venire giù o che non si possono evitare magari devo spegnere le luci no fagli evitare quel cazzo di quei muri qua che vengono giù random sempre e comunque quindi vabbè ho capito io ma questi non li ho capiti neanche ancora se obbligato perdere cuore mi sembra strano perché ci sarà un trucco ma non lo conosco al momento ma cerchiamo di sfruttare il più possibile il continuo che ho se riesco arrivare anche più in là di dove ho fatto il gameplay fino adesso meglio ecco il capitolo 2 già un capitolo bastardo perché qua è pieno di rottura di coglioni tra i pipistrelli e quant'altro i quadri è difficile regolarsi con il mirino qua vaffanculo quei pipistrelli mamma mia io li 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 veramente li odio i pipistrelli una cosa più fastidiosa e vaffanculo che mi hai fatto perdere il cuore stronzo infame maledetto va bene se di tutto quella porca troia che gli arriva in faccia via tutto eh vaffanculo sto tutta l'energia mi ha tolto sto quadro di merda non è finita eh il problema è che arrivare al boss qua senza energia è un po' un casino no perché ti colpiscono muori e vaffanculo devi già spuntanato un continuo va bene va bene adesso fortunatamente ti fa ripartire da qua ma donna sto fiamme sono fastidiose un po' di bombe e dai è andato però già spuntanato un continuo e quindi è un gioco difficile da colpade un po' più agevole con la pistola che si fa ripartire da un po' più ma che palle quando ti colpiscono ti fanno perdere anche gli oggetti che allora se io lascio il mirino standard mi rimane in centro ed è buono sapersi perché poi si sposta sempre verso il centro il mirino no la minata è quella io avrei preferito che rimanesse dove dove lo... dove lo lasciamo ori? eh dai eh attenzione i pipistrelli infami maledetti quindi riesco a trovare la posizione con il mirino ok va bene bombe, cuori tutti i cuori cos'era qua? era il boss dei zombie? mi sembra sono bastardi anche questi si si un boss fastidioso anche questo perché ok devi colpire due volte i zombie poi la sono la testa guardate a fare il culo ah 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 ha fatto andare un po' di bombe anzi ho fatto andare tutte le bombe ma mi sono salvato l'importante era quella ho usato quattro cuori va bene capitolo quattro la paura è maledetta ok le cose di prima ah fastidio le miele di coso lì di biancanele ah non ho più neanche la ok i classici gpp strelli rompi coglioni immancabili il boss delle maniche oh la la oh la la oh la la ok sta da fare due volte se ma che palle ecco mi ha fatto perdere il cuore due cuori come se perdi due cuori perché te lo fa perdere te lo fa perdere quello che fatemi un cuore no cazzo ho sprecato una bomba ma basta questo pepistrelli appena tre cuori ancora sto maledetto boss lasciala ok dai sul sito tenere a mano le bombe è finito e adesso quel livello guagherine è un livello bastardo però eh capitolo 5 ecco è non è che le esse mi danno un continuo eh vaffanculo prendi sto cuori fastidioso vado qua poi c'erano anche le macchine che rompono le palle eh vaffanculo ma vai ok 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 vai via malattina maledetta quanto di odio eh ho capito io ma no prendilo avevo tutti i cuori cazzo perchè torni indietro? però arrivano macchine lo sapevo ecco ma per cosa cazzo ti ho colpito? il cuore si sono tutti i cuori però eh vaffanculo questo qua eh questo qua un livello di Christine la macchina in fragman vaffanculo ecco il livello che abbiamo visto l'altra volta che la macchina qua è il cribbio no perchè ho lanciato la bomba colpisce sempre colpisce sempre dov'è? ok l'ho fatta la prima macchina è un bello bastardo questo eh non è finita perchè eh cazzo cazzo mamma mia quei pipistrelli anche chi li ha inventati in quel gioco qua macchina infernale poi adesso mi toglie un cuore eh è obbligatorio perchè non so perchè ma nooo cazzo cazzo c'ho pochi cuori mi sa che ce n'è ancora una di macchina infernale bello bastardo questo ecco cazzo inoltre c'ho appena due cuori non ce la farò mai qua te lo toglie perchè non si sa perchè qua sei macchina maledetta non toglie il cuore mi ha tolto il cuore vaffanculo mi ha sputtanato un credito che poi mi fa partire da qua oltretutto che andiamo ancora a rifarli tutti in pratica ancora qua ho sprecato qua non riesco a capire come cazzo fare a evitare di farsi togliere il primo cuore che è impossibile Cem ! ecco ma e mai c'è un cuore lì ma mai c'è un cuore lì ma... Si m'è colpito all'inizio perche mi toglie il primo cuore lì a tradimento e poi arrivano i pipistrelli la cosa più odiosa in quel gioco qua senza dubbio sono i pipistrelli Macchina che mi toglie il cuore Obbligatoriamente adesso Non si sa perché Un uomo special per cosa me ne toglierebbe una E poi torna a dormire Cristina macchina infernale Il problema è che ce ne sono milioni Di quelle macchine qua Ecco Due pipistrelli che ovviamente mi tolgono cuori Questa mi toglie il cuore all'inizio Che non si sa perché E porca troia è riuscita ancora A prendermi dentro sto Troppo difficile col pezzo qua Anche perché non è finito il livello E buonanotte Adesso arrivano i pipistrelli Mi curano Di sicuro Ovvio 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 Porca ampestata maledetta Guarda che avevo recuperato un cuore Cazzo Proprio difficile questo La mia puntata Halloween Finirà qua Porca Forse non devo spaccare i vetri E sfruttarli E sfruttarli Guarda che non mi ha colpito all'inizio Quella cosa più unica che era Maffanculo Oh Cuore Stava facendo sprecare un cuore Non bisogna spaccare tutte le finestre Perché tanto lei Gira e pirla sempre qua Non bisogna spaccare tutte le finestre Bisogna Una porca troia ma Io li odio i pipistrelli maledetti Dipende proprio come gira Dove si trova lei Perché se si trova qua davanti La macchina Li toglie un cuore Senza se Senza ma Ok Allora Rivano sempre i pipistrelli da qua Che mi inculano Una volta una botta Te la danno lo stesso C'è poco da fare Qua la macchina Ti incula una volta E Ha un livello anche da capire Ho solo tre cuori E non so quanto dura Questo livello qua Un livello bastardo questo Sono fatto fottere Ecco che Mi corri Ok dai Ho quattro cuori La macchina Le sono in cuna Ok Cavolo non è ancora finito il livello E sarebbe da fare Quattro cinque volte Da Impararlo Dove sono i pipistrelli Ce l'abbiamo fatta Mamma mia Oh Mamma mia Complicatissimo Quello livello qua Capitolo sei Horror hotel Ok Qua non l'ho mai fatto Nemmeno io Quindi Sono questi No Mi lanciano occhi Buonanotte Ma li devo uccidere Quei bastardi Qua continuo A lanciarmi occhi O Devo limitarmi a Non mi lanciano solo occhi Mi lanciano di tutto Il gioco è bellissimo Comunque Questi sono peggio I pipistrelli Porca troia Bonus Niente Ovviamente Qua sono quei livelli Che Bonus Te li sono Porta Ecco Porta Giustamente Rescono E' difficilissimo Oh guarda Splatterhouse Chi ha un riferimento Splatterhouse Game over Ma Difficile Veramente Molto difficile Da finire Però è molto bello Con la pistola C'è qualche possibilità in più Ma Per quest'anno E' tutto Laser Ghost Master System Reale Buon Halloween a tutti E' stato un piacere Ciao 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 Grazie a tutti.